Oli, bentornati in questo nuovo video, oggi sono in ritardo, strano Deborah, non lo sei mai E poi questo è il primo video dell'anno, quindi buon anno a tutti quanti Oggi, che sono di fretta, voglio truccarmi con tutti i prodotti nuovi e low cost Ci saranno in mezzo anche delle cose che non sono proprio nuove, 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 ma tutte sotto i 10 euro Il che è molto importante per chi è on a budget Iniziamo il 2019 risparmiando Mi raccomando, prima di iniziare a vedere il video, se ancora non siete iscritti al mio canale, fatelo, è gratuito Basta cliccare il tastino iscriviti qui sotto e lasciate un bel like Così capirò che questo tipo di video vi piace e ne farò altri Let's begin! Ho qualche palettina nuova, tra cui questa, la NUT di Makeup Revolution, che è un brand super low cost E questi sono i colori all'interno della palette Sono dei colori molto easy, quindi pensavo di andare proprio per una cosa del genere In combo con un ombretto liquido astra Questi ancora non ve li avevo fatti vedere sul canale, nonostante è un bel po' ormai che li sto utilizzando Ho già steso il primer occhi e adesso vado proprio con questa palette A prendere e stendere il colore burro chiaro E lo vado a stendere su tutto l'occhio È la prima volta che provo questa palette Nonostante l'abbia presa mesi, mesi e mesi fa Volevo fare un video su tutta questa collezione NUT di Makeup Revolution Che è in collaborazione con un influencer Però poi alla fine non l'ho più fatta E quindi ci troviamo soltanto oggi ad utilizzarla Voglio fare proprio una cosa super di corta Oltre che un Makeup a 10€ Questo sarà un Makeup in 10 minuti, spero Vado a prendere Superb Che è questo colore aranciato qui E lo vado a mettere nella piega dell'occhio Gli ombretti Makeup Revolution non sono i miei preferiti Tra i low cost ce ne sono comunque di migliori secondo me Però questa palette è talmente diversa dalle altre a livello di packaging Che mi ha molto molto incuriosito, invogliato insomma all'acquisto Speriamo di riuscire a fare un Makeup carino Vado adesso con il marrone più scuro che si chiama Espresso Questo qua, sempre con lo stesso pennello Questo è di Morphe E lo vado a mettere all'angolo esterno Cioè vedete? Teoricamente questo marrone dovrebbe andare a scurire Ma non è che faccia Poi chissà quale differenza Vado con il nero Era, magari riesco a dare un po' più di definizione all'occhio Beh, decisamente Boh, di Makeup Revolution preferisco altri tipi di prodotti Piuttosto che gli ombretti Non so come mai Sembra che facciano un po' a macchia Sono abbastanza difficili da sfumare Vedete cosa intendo? Non sono particolarmente intensi Fanno un po' a macchietta Vado con lui L'ombretto liquido di Astra Questo è il numero 03 E lo vado a mettere sulla palpebra All'attaccatura delle ciglia E poi andiamo a fare una cut crease Semplicemente guardando verso l'alto Si andrà a stampare il prodotto E questa sarà proprio la linea guida per la mia cut crease Sarà il punto dove oltre non devo andare Ovviamente ora coloro tutta la palpebra Questo poi tra l'altro Sarà il make up della mia Rimpatriata con le ragazze del liceo Ci vediamo per fare un aperitivo Io e le mie vecchie compagne di classe del liceo Non tutte ovviamente solo alcune Ci siamo messe d'accordo proprio all'ultimo Letteralmente un'ora fa Infatti sono super in ritardo per questo Risfumo un pochino con il colore scuro ai bordi Come sempre non è una buona idea Quando si deve fare qualcosa Provare dei prodotti nuovi Meno male che questo ombretto di Astra È veramente veramente bello Mi piacciono molto i prodotti nuovi di Astra Che stanno uscendo ultimamente Se ne avete provato qualcuno E volete consigliarmelo Scrivetemelo in un commentino qui sotto Io lo stand di Astra ad esempio Lo trovo a Upim Ora vado con Sketch Che è questo color oro scuro E lo vado a mettere giusto all'attaccatura Tra il nero e l'ombretto dorato di Astra Una volta messo sull'occhio è un po' più bronzo Devo dire questo colore Sto facendo veramente un make up Super veloce Anche un po' impreciso Ma sono troppo in ritardo E quando sono in ritardo Mi viene l'attacchicardia tantissimo Io odio arrivare in ritardo È come se mi sentissi Tremendamente in colpa Nell'arrivare tardi So che è una cosa un po' Psycho Però è così E infatti odio Essere in ritardo Lo odio tantissimo Mi prendo la libertà di essere in ritardo Soltanto in situazioni in cui Conosco molto molto bene La persona con cui sto per uscire E non dobbiamo fare cose particolarmente importanti Infatti con il mio fidanzato Mi capita spesso di arrivare in ritardo Anche se si tratta sempre di massimo 5 minuti Come eyeliner uso il Vinyl Black Eyeliner Sempre di Astra Che ha la punta così sottile Sottile Non in feltro È proprio a peletto Ed è il mio applicatore preferito Per gli eyeliner liquidi non in penna Ne ho approfittato E ho messo anche le mie solite Ciglia finte super esagerate Dato che vado a fare aperitivo Me lo posso permettere So che a molti di voi Non piacciono queste ciglia esagerate Io ne vado pazza Ultimamente sto cercando di rimanere Un pochettino più soft Ma oggi ho proprio voglia di cigliozze Perché sono 4 giorni che non mi trucco E sto andando in assinenza Mi porto avanti facendo anche le sopracciglia Perché uso i soliti prodotti Questo è l'Arch Rival di Lottie Con cui faccio i peletti iniziali E poi vado di matita di NYX Professional Makeup Questa è la solita Precision Brow Pencil Questa costa un po' di più Rispetto agli altri prodotti Che vi ho fatto vedere Perché viene 7,90 euro Ma siamo comunque sotto i 10 euro Quindi Brows on point Passiamo adesso al fondotinta Uso questo qui di Essence Il Fresh and Fit Ogni tanto mi fa venire qualche bollicina E tipo oggi non vuole uscire dal contenitore But ok Boh, lo devo aprire così Vabbè Tutto nella norma Lo vado a mettere direttamente così Dall'applicatore Lo utilizzo nonostante Se utilizzato con costanza Mi fa venire le bollicine Perché fa davvero Un effetto Fresh and Fit È bellissimo Copre il giusto Non è pesante Dura tutto il giorno Per essere un fondotinta low cost Mi piace Peccato per questo problema Che è anche un grande problema Del fatto che utilizzato Abitualmente poi Mi fa venire delle bolle Delle imperfezioni Lo stendo con la mia nuova Beauty Blender Questa qui è nuova Adesso Beauty Blender Dovrebbe trovarsi anche negli OVS Perché questa nuova Me l'hanno regalata A un evento di OVS Ed è capilata giusto Giusto Nel momento Perfetto Perché la mia blender Di Fenty Beauty Di Fenty Beauty Si è distrutta L'ho appena buttata Su di me però La Fenty Blender Is the best Mi sono messa Un timer E mancano 15 minuti Alla scadenza Di questo timer Quindi in 15 minuti Devo finire il mio make up Passiamo al correttore Di Astra Questo io lo amo È finito anche nei Prefi prefi del 2018 È il Long Stay Concealer Vado ad applicare La tonalità 02 Non voglio illuminare Troppo il contorno occhi Perché stranamente Questi giorni Dato che ci sono state Le feste Ho dormito E le mie occhiaie Sono diminuite Notevolmente Fisso il tutto Con una cipria segreta E ci vediamo dopo Ora che sono tutta fissata Passiamo a una palette Per il viso Sempre della linea Neff Ed è questa qui Packaging uguale Soltanto che è rosa E qui abbiamo Una terra fredda Per il contour Una un po' più calda Luminosa Marmorizzata E degli illuminanti Vado con la terra fredda A fare un po' di contour È un po' scomodo Questo packaging Perché non si apre mai Completamente Vedete si blocca così E quindi andare a prendere I prodotti che sono Vicini al cartoncino È un po' complicato Anche questo Non l'avevo mai utilizzata È fredda Ma non troppo Questa terra Buono Così non devo utilizzare Anche il bronzer Per scaldare L'incarnato Vado direttamente Di questa Che sono di corsissima Io spero Che non finisca Il timer Cioè voglio Metterci davvero Poco a fare Questo make up Calcolate che è passata A meno di mezz'ora Mi ritengo Soddisfattissima Perché fare una full face Così Soprattutto parlando Nel video E utilizzando prodotti nuovi Non è facile Come illuminante Vorrei provare Uno di questi Però 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 C'è questo Di revolution Che è un po' particolare Ora lo apro Perché Non l'avevo ancora Mai Aperto C'è ancora Il sigillo di protezione Ed è Oh Cioè vedete È un jelly highlighter È proprio gelatinoso Gelatinoso Che lingua ho parlato È super gelatinoso Penso andremo a provare Insieme lui Sperando di non rovinare Tutto il make up Lo applico con la blender Ma lo voglio toccare C'è È jelly C'è un prodotto di stila Se non sbaglio Che è così Ma come si preleva Uh Che bello L'ho preso un po' troppo Va a separare un po' la base Leggermente Ma è molto luminoso Oddio quanto l'ho preso Che bello Qui l'ho messo meglio Bellissimo Veramente bellissimo E non mi ha nemmeno separato La base da questo lato Quando si provano prodotti nuovi È facile cadere in un epic fail Live E io Lo so molto bene E anche voi Se mi seguite Da un pochettino Cioè è veramente Pazzesco È illuminante Bellissimo Ed ha quell'effetto Blinding Però Come se fosse Luce Della pelle Vabbè Io esagero sempre Quindi poi l'effetto naturale Si perde Veramente bello Non pensavo Pensavo non mi sarebbe piaciuto Così tanto Ne metto anche sull'arco di cupido So che a voi non piace Nemmeno questa cosa che faccio But I love it Quindi per oggi Fatemela passare E come blush Uso uno dei miei preferiti Che è il Matte Touch Di Essence Nel numero 60 Cherry Me Up Questo blush Sta bene con Tutto È un malva Di solito metto Prima il blush E poi l'illuminante Oggi volevo provare Prima l'illuminante Ero troppo curiosa Che top Questo look glowy Sono contenta Sono contenta Finisco gli occhi Sempre con la palette NAP Vado semplicemente A utilizzare Un colore caldo E il nero Li vado a mettere Qui sotto E come matita nera Makeup Revolution Questa è nuova Nuova Ma ce ne avevo già un'altra È molto carina Questa matita È bella pigmentata E dura a lungo Eccoci qui Il make up è quasi finito È super Boh Sapete che mi ricordo Un make up Che facevo spesso Qualche anno fa Tipo due anni fa Questo tipo di colori Super super glowy Non lo so Mi sembra di essere Tornato al passato Oggi Se le labbra In realtà io avrei Un prodotto nuovo Che è un lip topper Però sempre della stessa Collezione Dell'illuminante Strano Gelato No Accidenti Non ce l'ho fatta Per pochissimo A finire il make up In mezz'ora Però ci siamo Dai mancano solo le labbra È della stessa linea Dell'highlighter In gelatina Di make up revolution Però boh Forse è un po' Troppo particolare Volevo andare Con delle labbra nude Anche perché Sicuramente Berremo Smangiuccheremo Qualcosina Vado con questo Di Maybelline Il super stay Matte ink Questo è nel colore 65 Che è un bel nude E questo resiste A tutto Lo potete mettere Con qualsiasi cosa E lui dura Io questi Li ho presi Su amazon Alcuni colori Su amazon Trovate tutti i link Giù nell'info box Anche degli altri prodotti Mentre altri colori Li ho presi In portogallo Quest'estate Guardate che bello Et voilà Come potete vedere È possibile fare Una full face Utilizzando soltanto Prodotti da 10 euro Ho fatto anche altri video Con questo tema E vi rilascio Linkati Giù nell'info box E si può fare E si può fare anche Una full face Con prodotti da 10 euro In poco più di mezz'ora Se non avessi parlato Anche in mezz'ora Spero tanto che il look Vi piaccia Che possa ispirare I vostri trucchi I prossimi trucchi Che realizzerete Su voi stessi Prodotti super promossi Soprattutto questo Non vedo l'ora Di provarlo maggiormente Perché una volta Che capite come si applica Non vi separa la base Si mette bene Anche sopra la cipria Ed è molto wow L'unica cosa Che proprio Non è che mi ha convinto Al 100% È la palette NAP Di Revolution Pro Poi ho detto Per tutto il video Makeup Revolution Invece è di Revolution Pro Che è la stessa marca In realtà È solo la versione Un po' più fancy Di Makeup Revolution Un pochettino più Professional E niente Io spero davvero tantissimo Che il video vi sia piaciuto Vi mando Un grandissimo bacio Vi aspetto Su tutti gli altri Mei social Soprattutto su Instagram Ovviamente qui sul canale E con il prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.